Lieto di ascoltare tutti quanti, ma scusate, qual è l'unica forza politica che almeno come segnale si dimezza lo stipendio e lo dà a un fondo per le piccole e medie imprese? Chi là dentro fa la stessa cosa? La Lega lo sta facendo? No. Il PD lo sta facendo? Non lo sta facendo. Guardi, guardi, caro signore, se lei andrà a Condeno, comune in provincia di Ferrara, la nuova scuola costruita dopo il terremoto è costruita con il milione di euro donato dalla Lega. Quindi c'è qualcuno che fa, quindi la invito.